Succobi dei cellulari, dei tablet, praticamente invece da stare sempre sul cellulare dobbiamo andare a giocare all'aria aperta. 5.000 ragazzi, 250 classi, 15 istituti comprensivi di Frosinone e provincia hanno partecipato a tutti insieme per fare rete, per sostenere una scuola senza bulli e senza violenze, animata di coraggio, fiducia e speranza. I ragazzi delle elementari e delle medie hanno sottoscritto un impegno, quello di fare nella rete e dello sport uno spazio di vita, di responsabilità, di crescita e di rispetto. Hanno firmato la promessa di usare internet e le nuove tecnologie in modo consapevole, facendo attenzione ai pericoli nascosti durante la negazione, come il cyberbullismo. Non mi è mai capitato di essere vittima di bull tramite internet, sicuramente ci sono state vicende a me vicine che mi hanno dato la possibilità di capire la situazione e il pericolo che una persona può correre esponendosi, mostrandosi su internet. Creare una rete di protezione nei confronti dei minori, dunque non ci sono altre ragioni e questo chiama ancora una volta di più anche la famiglia a accompagnare il percorso tecnologico, il percorso sui social media dei nostri ragazzi. Per la prima volta.